Uno degli argomenti che tratteremo oggi è appunto questa nota Ares del 24 novembre 2021, quindi una nota di chiarimento dalla Commissione europea appena arrivato. Si tratta di una nota di chiarimento sul regolamento comunitario che è stata indirizzata da tutte le autorità di gestione sia dell'FSE che del programma del FESDRE. L'obiettivo della giornata odierna riguarderà una serie di argomenti, innanzitutto la nota Ares, quella che è calda calda appena arrivata, poi c'è un breve accenno a quelle che sono le variazioni intervenute nel manuale di controllo di primo livello nella versione novembre 2021, più una serie di criticità che sono state riscontrate nell'ambito dei controlli nei vari dipartimenti. L'obiettivo come sempre di questi incontri è quello di provare a rendere la comunità dei controlli più coesa e mettere a sistema, a fattore comune, quelle che sono le esperienze, le difficoltà, le soluzioni, i problemi che sono stati via via riscontrati e individuati nell'ambito delle attività di assistenza tecnica a supporto dei controlli. Chiaramente in questa casistica, nell'offrire questi argomenti, molte volte provengono da un confronto diretto con i vostri colleghi delle altre UMC e quindi è un modo per, attraverso la mia persona, di condividere con tutto il resto delle persone che lavorano nell'ambito dei controlli le criticità o le soluzioni che sono state individuate in altri dipartimenti. Quindi in questo momento mi comporto da mediatore, cercando di rendere disponibili ad altri informazioni che invece sono patrimonio di alcuni dipartimenti. Cerco di svolgere un po' quelle sono le mie competenze e mettere le mie esperienze a fattore comune della comunità. L'indice di dettaglio degli argomenti che tratteremo oggi sono, appunto, oltre appunto alla notares, manuale dei controlli, anche una serie di altre questioni che sono i progetti dormienti, l'acquisto di immobile con caparra confirmatoria, le variazioni sostanziali, il cambio sede dell'investimento, ricordiamoci la copertura degli anticipi per le erogazioni avvenute nel 2018, gli scostamenti degli indicatori e in ultimo un problema che è stato riscontrato in merito alla sincronizzazione dei dati tra SIC e CAROLTE. Anche questo è una cosa da poco venuta fuori. Allora, questa slide l'apretto soltanto per ricordare un po' a tutti dove siamo arrivati noi rispetto al percorso del programma operativo. ci incingiamo ormai a passo veloce verso la chiusura del programma, perché siamo a fine 2021, quindi ci rimangono di fatto due anni, quindi il 31 dicembre 2023, per poter effettuare i pagamenti che poi dovranno essere controllati e inseriti nelle domande di rimborso alla Commissione Europea. Due anni sono un tempo lungo nella normalità dei casi. Se consideriamo che il programma operativo vale 4 miliardi e 200 milioni, due anni, per raggiungere il target complessivo non è un tempo sufficiente. Da quelle che sono ad oggi le proiezioni dell'andamento della spesa del programma, effettuate per singolo dipartimento, in ragione di quelli che sono i bandi pubblicati, piuttosto che è l'avanzamento della spesa dei progetti già finanziati, sia in termini di opere pubbliche che di regimi di aiuto. Ad oggi il Dipartimento di Programmazione di concerto degli altri dipartimenti ritiene che ci sia ancora un deficit di circa un miliardo di euro di spesa che deve essere imputata barra certificata sul programma per poter raggiungere la piena attuazione del programma stesso. Quindi è chiaro che lo sforzo che verrà richiesto ai dipartimenti ancora sarà molto consistente, perché non solo bisognerà portare avanti quelli che sono i progetti già esistenti, finanziati e già in attuazione, ma bisognerà trovare nuove operazioni da poter imputare al programma, sia native che retrospettive, per poter raggiungere il target di fine periodo. Quindi se consideriamo che dall'inizio del programma al 2023 siamo a circa 3 miliardi di spese che il programma potrà portare avanti in questo momento, in questi ultimi due anni noi dobbiamo trovare un altro. Trovare un altro significa difficilmente si riuscirà a portare avanti nuovi avvisi nativi in grado di poter fare spese in un arco di tempo così breve, se non per quote residuali, quindi bisognerà guardarsi intorno per capire se ci sono ulteriori progetti che si possono o individuare manovre di accelerazione della spesa, come quelle che sono state utilizzate durante il periodo Covid, oppure trovare progetti rinvenienti da altre fonti di finanziamento da poter poi rendere retrospettivi sul programma. Quindi la nota Ares che è appena arrivata, indirizzata da tutte le autorità di gestione come dicevo in precedenza, che ritorna sull'articolo 65, quindi su quello che volgarmente ne hai detto è alla base della possibilità di inserire progetti retrospettivi all'interno della programmazione comunitaria, ritorna quanto mai di attualità perché sarà il nostro calapino per poter raggiungere e massimizzare i fondi comunitari. La cosa bizzarra è che arriva oltre due anni dopo l'audit che la Commissione europea ha fatto in regione siciliana nel 2019, dove proprio su questo argomento c'è stato un fortissimo scontro istituzionale sia a livello regionale con la Commissione europea, sia anche a livello nazionale con l'Agenzia della coesione, che ha cercato di perorare una interpretazione dell'articolo che fosse quanto più ampia possibile. Di fatto la Commissione europea invece ha sempre propeso per una interpretazione di questo articolo in maniera invece restrittiva e oggi viene definitivamente confermata perché esiste ormai una nota indirizzata a tutti dove esprime in maniera chiara Erga Omnes qual è l'interpretazione che bisogna dare a questo articolo 65. Vi riporto proprio a modo di ricordo quello che diceva l'articolo 65, in particolare il testo di questo falligerato articolo dice che non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario al lato di gestione a procedere dal fatto che tutti i redditi di pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Quindi la notares interviene per chiarire tre aspetti in particolare, cosa si intende per portato materialmente a termine, cosa si intende per completamente attuato e cosa è la domanda di finanziamento. Questo come dicevamo è un articolo alla base del quale è possibile effettuare imputazione di progetti che nascono da altre fonti di finanziamento sul programma operativo, quelli che in questo ciclo di promozione sono stati chiamati progetti retrospettivi. Volevo dare una segnalazione, dare un'indicazione per lo svolgimento di questo webinar. Dico chiaramente sono gradite domande, interventi in metà da rendere maggiormente efficace la comunicazione. In questa slide invece ricordo soltanto che la Commissione europea dà per scontato che abbiamo chiarezza delle due definizioni che sono alla base della possibilità di imputare progetti e operazioni all'interno del programma. Quindi la definizione di operazione che vi riporto qua, che poi potrete consultare, è quella che è la definizione di beneficiario, che non andiamo a sviluppare perché sicuramente sono ormai concetti noti ai più. partendo dall'esame della nota Ares, loro inizialmente provano a dare, fanno una disamina di tutto quello che è successo in questo periodo. Innanzitutto ce lo fanno un loro mea culpo perché effettivamente ammettono che l'RDC che sarebbe il regolamento 1303 in effetti non ha definito in maniera chiara cosa si intendesse aver portato materialmente a termine o compagnia attuata. Quindi in un certo senso fanno una missione di colpa e quindi questo è stato importante per poter discutere su alcune operazioni in serie di audit della Commissione. Però se da una parte fanno una missione di colpa, dall'altra invece partendo proprio dalla lettura testuale dell'articolo cominciano a mettere dei paletti. Quando si parla di portato materialmente a termine, è chiaro che non ci si può che riferire ad un oggetto fisico. Quindi definiscono, mettono uno spartiacque all'interno dell'articolo portato materialmente a termine e chiaramente stiamo parlando di un oggetto fisico. Quando invece parliamo di completamente attuato, attuata, facciamo riferimento al resto delle operazioni che non presentano un oggetto fisico. quindi quando si parla di portato materialmente a termine, ci riferiamo per esempio a quello che loro stessi fanno come esempio, concessione di un edificio, infrastrutture di rete o un pezzo di essa. Quando invece si parla di completamente attuata, si parla invece di qualcosa di immateriale e in generale la stessa notare, se fa riferimento ad alcuni tipi di sostegno alle piccole e medie imprese piuttosto che a strumenti finanziari, piuttosto ancora ad attività di ricerca o di formazione. Quindi i due aspetti vanno scissi a questo punto. Quando parliamo di qualcosa che è materiale, sia opera pubblica che regime di aiuto, dobbiamo parlare di portato materialmente a termine. Quando invece siamo nell'ambito dell'immateriale, dobbiamo utilizzare il concetto di piena attenzione. Un altro aspetto che viene segnalato all'interno della stessa nota è il rimando anche a quello che è l'articolo 125 dello stesso regolamento, che è il corollario all'articolo 65. Da una parte il regolamento dice che si possono portare all'interno del programma operazioni che non siano state materialmente portate a termine o completamente attuate. Dall'altra parte l'articolo 125 stabilisce che nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione deve accertarsi che per le operazioni iniziate prima della presentazione della domanda di finanziamento, l'autorità di gestione sia stata rispettata il diritto applicabile alle operazioni. cosa vuol dire questo aspetto qua? Vuol dire che nel momento in cui noi rivolgiamo lo sguardo ad operazioni che sono provenienti da altri programmi, dobbiamo comunque valutare se queste operazioni hanno rispettato il diritto applicabile alle operazioni inserite in quel programma intervento. Quindi il momento in cui noi rendiamo retrospettiva un'operazione non è il tocca sana, il libera tutti di quello che è avvenuto prima all'interno dell'operazione. Perché nel momento in cui noi imputiamo al programma operazioni che hanno avuto un passato con irregolarità, non viene sanato per il fatto che le imputiamo al programma operativo. questo in alcuni casi noi l'abbiamo invece sfruttato per dire che da questo momento in poi non commettiamo più alcun tipo di irregolarità oppure non ammettiamo più le varianti e lasciamo il progetto prima della fase dell'imputazione al programma operativo pieno di tutte le irregolarità che a questo punto non devono essere valutate. Invece in questa nota loro non fanno altro che ribadire che l'imputazione retrospettiva dei progetti non è un libera tutti, non possono essere trasferite incondizionativamente sui programmi operativi ma devono essere sempre selezionate nel rispetto di quelle che sono le condizioni di ammissibilità stabilite dai singoli programmi, dalla singola azione, dai singoli criteri di selezione. Questo è un altro tassello che in effetti non era stato mai messo e che non era stato mai realmente esplicitato. E questo è un ulteriore elemento che rende più difficile l'indicazione di progetti retrospettivi perché non solo dobbiamo accertarci di tutta una serie di aspetti dopo l'imputazione al programma ma dobbiamo anche valutare se le operazioni fino a quel momento hanno rispettato il diritto applicabile in precedenza. La notares continua con una serie di approfondimenti e scende sempre più nel dettaglio per provare a dare elementi oggettivi di valutazione. E' esplicita due aspetti. Innanzitutto c'è che sia la Corte dei Conti Europei che la Commissione hanno rilevato che le autorità di gestione, tutte le autorità di gestione del PES e dell'FSE non hanno una metodologia comune per individuare le operazioni retrospettive. Noi da questo punto di vista siamo stati precursori e fortunatamente nel nostro sul FES le linee guide per l'imputazione dei progetti retrospettivi invece noi le avevamo fatte. Quindi questa raccomandazione, questa critica non è rivolta all'autorità di gestione del POR Sicilia. Ma evidentemente in altre regioni questo non è avvenuto. Inoltre non è stato dalle autorità di gestione chiariti in maniera universale e questo doveva essere un compito dell'Agenzia della coesione dare delle indicazioni trasversali a tutte le autorità di gestione su quali fossero i due concetti, su come interpretare i concetti di importato materialmente a termine o completamente attuato. Noi come autore di gestione, come Stato italiano, abbiamo sempre proteso verso l'interpretazione che il portato materialmente a termine fosse da ricollegare a un punto di vista finanziario o amministrativo. Per la serie, fino a quando non abbiamo pagato tutto l'operazione non è completata. Oppure, fino a quando non abbiamo completato l'operazione da un punto di vista amministrativo sicuramente non è possibile considerare l'operazione come materialmente portata a termine. Loro invece, proprio studiando la normativa italiana, contestano proprio questo aspetto dicendo che, e poi lo vedremo leggendo un quesittino della nota Ares, che nel momento in cui noi andiamo a fare una verifica finanziaria piuttosto che amministrativa è evidente che il sottostante investimento materiale è stato già realizzato, perché tu non potresti mai fare una verifica finanziaria o amministrativa, ad esempio pensiamo al collaudo, se in effetti l'operazione alle spalle non fosse stata già interamente realizzata. quindi loro contestano il fatto di aver riconnesso il concetto di portato materialmente a termine con aspetti di natura finanziaria o amministrativa. dico finanziaria perché anche? perché noi potremmo, così come è avvenuto in alcuni casi, rallentare i pagamenti alla ditta esecutrice in metà da dire che l'operazione non è materialmente completata anche se, ad esempio, il certificato di pagamento è stato già emesso oppure le fatture non sono già state emesse dalle ditte. quindi noi rallentiamo i pagamenti per dimostrare che l'operazione non è effettivamente portata a termine. Questo aspetto qua loro, a questo punto, in maniera definitiva, dicono che sicuramente se noi utilizziamo un aspetto finanziario, quindi i pagamenti, o un aspetto esclusivamente amministrativo sicuramente non possiamo essere sicuri che l'operazione non è stata portata materialmente a termine. La stessa Corte dei Conti europea, in un contenzioso che si è sviluppato con lo Stato membro, ha chiaramente detto che il concetto di portato materialmente a termine si riferisce al competimento dei lavori e a tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera. Quindi far retrocedere il completamento dell'operazione ai fini dell'articolo 65 a una data che è antecedente a quella che noi invece avevamo considerato, che era quella dell'Auto. A questo punto c'è, all'interno della nota, una vera e propria disamina di quello che è la nostra normativa nazionale dei lavori pubblici, proprio del DPR 207 che, tra le altre cose, chiarisce cosa sia quando deve essere messo il certificato di collaudo, piuttosto che il certificato di completamento lavori. E loro rilevano, ma anche gli addetti ai lavori sanno benissimo che il certificato di collaudo, molte volte, per motivazioni varie, viene messo molti mesi dopo la chiusura dei lavori, addirittura anni, ci sono addirittura opere che, a distanza di tanti anni, ancora non hanno ottenuto il certificato di collaudo, per motivazioni che possono essere di natura amministrativa, di contenziosi, piuttosto che di altra natura, nonostante l'operazione sia stata effettivamente già realizzata. Quindi il collaudo, sicuramente, che ha una dinamica variabile nella sua emissione, quindi può essere spostato in avanti per molto tempo, sicuramente non può essere utilizzato come indicatore del completamento dei lavori. Il collaudo invece ha lo scopo di verificare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo quello che è stato il progetto approvato in serie di gara, con le relative prescrizioni tecniche, nonché abbia tenuto conto delle eventuali prezzi che ci sono state, in conformità col contratto e così via. Quindi il collaudo ha un abbraccia degli aspetti tecnici, amministrativi e anche finanziari che sono ulteriori rispetto al comportamento materiale del lavoro. Se noi andiamo a rileggere quello che è il DPR 207 del 2010, all'articolo 215 dove parla di collaudo, l'interpretazione che dà la Commissione europea in effetti è esattamente calzante con quello che è la normativa interna. In effetti dice che il collaudo, leggendo proprio materialmente l'articolo, dice ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali prezzi di variante in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Quindi in effetti l'aver connesso il concetto di portato materialmente a termine alla procedura dell'operazione di collaudo, per noi era molto vantaggioso perché noi potevamo in questa maniera allungare in maniera artata il peito all'interno del quale noi potevamo individuare un progetto e poi poterlo imputare al tram operativo. La Commissione europea invece rivolge la sua attenzione verso quello che è il certificato di comportamento dei lavori, che è sempre normato dallo stesso DPR, dall'articolo 199, che è invece quello che a questo punto noi dobbiamo considerare per, nel caso dei progetti retrospettivi, per poterli imputare al programma. E dice, a seguito della comunicazione formale da parte dell'esecutore, che i lavori sono stati ultimati, il direttore dei lavori effettua le necessarie verifiche in consultazione con l'esecutore e rilascia senza indugio, a partire dalla comunicazione formale, due copie del certificato di completamento, secondo le stesse disposizioni del verbale di consegna. In ogni caso, alla scadenza prevista del contratto, il direttore dei lavori redige di concetto con l'esecutore una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Quindi, a seguito della comunicazione della ditta, che dichiara di aver completato i lavori, il direttore dei lavori, di fatto, di concerto, in contattattore con la ditta, si rega sul cantiere e verifica che effettivamente le lavorazioni siano state completate. A questo punto, diciamo, redige il certificato di completamento dei lavori e il certificato di fine lavori e lo invia al RUP per la necessità di presto d'atto. Ricordiamo che nel caso del certificato di fine lavori, il direttore dei lavori, in sede di sopralluogo, in contattattore con l'impresa, può assegnare, ed è il comma 2 del DPR, dell'articolo 199, può assegnare un tempo non superiore a 60 giorni, all'interno del quale la ditta deve completare dei lavori minori che non incidono assolutamente sull'utilizzo e sulla funzionalità dell'opera. Supponiamo che stiamo costruendo una scuola e manca da sistemare un gradino di accesso e piuttosto bisogna montare l'ultimo pezzo della grondaia perché non avevamo trovato il pezzo. Stiamo parlando di lavorazioni minori che comunque non incidono sul completamento dell'opera stessa. se entro il termine assegnato dal direttore dei lavori, questi lavori minori non sono stati realizzati, effettivamente fatti alla ditta, allora il certificato di completamento dei lavori non perde la sua efficacia e deve essere rifatto. Questo aspetto qua vedremo che è importante perché la notare, su questo aspetto, sul termine ulteriore per completare i lavori minori, fa una sottolineatura molto importante. Il concetto importante è legato al fatto che possono essere segnati dei tempi ulteriori per completare il lavoro nelle piccole lavorazioni. La notare stabilisce chiaramente che non possono essere utilizzati per prolungare la data di completamento in materia dell'operazione. Significa che nel momento in cui viene emesso il certificato di completamento dei lavori, ancorché siano stati assegnati ulteriori tempi alla ditta per completare le attività, il certificato di completamento dei lavori stabilisce il discrimine tra il completamento dell'operazione e il non completamento. Quindi fino al prima dell'emissione abbiamo che l'operazione non è stata completamente realizzata, successivamente all'emissione del certificato di completamento dei lavori l'operazione è stata completata, ancorché bisogna delle lavorazioni marginali da fare, perché la notare sarà ragione per assurdo. Se così non fosse, significa che il certificato di completamento dei lavori non poteva essere emesso. Quindi se il direttore dei lavori assegna alla ditta ulteriori 60 giorni massimi per realizzare le lavorazioni minori, è perché comunque l'intervento è da considerarsi concluso. Se così non fosse, il certificato è come non è emesso e quindi il termine non poteva essere assegnato. Ricordiamoci che su queste tempistiche c'è sempre un gioco delle parti, perché la ditta sta contratta a dei tempi all'interno del quale eseguire le opere. molte volte, per venire incontro a piccoli sforamenti con le realizzazioni delle opere, la ditta comunica con un po' di ritardo che andrà d'antecedente a completare i lavori. Il direttore dei lavori prende del margine di tempo per dare la possibilità alla ditta che completi i lavori, quindi quando arriva sul cantiere i lavori sono conclusi e poi magari riassegna anche un tempo ulteriore per fare delle piccole lavorazioni marginali. Quindi in queste comunicazioni che avvengono tra ditta, direttore lavori e eventuale maggior tempo che viene concesso, di fatto c'è quell'elastico che viene gestito per evitare che la ditta esecutrice incorra nelle sanzioni per ritardato completamento dell'appalto. Quindi anche qui, quando si esaminano i progetti, bisogna esaminare, guardare in maniera critica quali sono le tempistiche che sono state utilizzate tra la comunicazione della ditta di fine lavori, il certificato di completamento dei lavori messo dal direttore dei lavori e le eventuali ulteriori tempistiche che sono state assegnate per il completamento delle attività marginali. A questo punto il certificato di fine lavori diventa il punto di partenza per comprendere se l'operazione è o non è stata materialmente conclusa. La cosa che viene detta ulteriormente è che se l'operazione non è ancora materialmente portata a termine e quindi noi in virtù di questo la imputiamo al programma, la Commissione dice che la ditta di gestione deve avere la disponibilità di prove documentali che dimostrano che effettivamente dopo l'imputazione dell'operazione al programma ci sono state altre lavorazioni a dimostrazione del fatto che effettivamente il progetto non era materialmente portato a termine. Non basta dire soltanto, non ho ancora messo il certificato di completamento dei lavori per dire che l'operazione non era materialmente portata a termine, ma vuole che non sia soltanto il documento a discriminare la possibilità o meno che l'operazione venga portata dal programma, ma occorre che ci sia oltre all'assenza di un certificato di completamento dei lavori che in effetti nel momento in cui individuiamo l'operazione e la portiamo all'interno del programma ci siano delle lavorazioni fisiche intervenute successivamente. perché se questo non ci sono, allora è un modo di aggirare l'ostacolo. In questa maniera viene completato quello che è il concetto di operazione materialmente portata a termine. Quindi abbiamo completato quello che sono le indicazioni che provengono dal notare con riferimento all'operazione materiale. Nel caso in cui invece l'operazione noi andiamo a individuare proveniente da altre programmazioni e non faccia riferimento ad un'operazione materiale, allora dobbiamo utilizzare il concetto di completamente attuata. In questo caso l'elemento importante è quello di individuare se al momento in cui noi proviamo a imputare il progetto, l'operazione al programma, effettivamente tutte le attività previste nell'operazione, indipendentemente dai pagamenti, siano state effettivamente fatte dal beneficiario. E la notare se fornisce degli esempi, poi c'è due esempi in particolare. Nel caso di formazioni, quindi dice che la data della piena attuazione è la data in cui il corso e tutte le attività connesse previste, ad esempio il rilascio dei diplomi o l'evento finale di comunicazione, sono conclusi e per la quale sono disponibili i documenti giustitativi, ad esempio l'elenco delle presenze, il calendario dei corsi, piuttosto che l'annuncio dei dati relativi al rilascio dei diplomi o dell'evento finale. Quindi per poter noi imputare al programma un'operazione, diciamo tra virgolette o non tra virgolette, immateriale, dobbiamo per determinare se l'operazione è stata materialmente completamente attuata o meno, dobbiamo effettivamente verificare se tutte le attività previste nell'operazione sono state effettivamente svolte o meno. L'altro esempio che viene riportato, che riporta anche nella slide, è il caso degli incentivi all'occupazione. In questo caso la data del completamente attuata è la data della piena attuazione e è data dalla data di fine regime dell'incentivazione, quindi il momento in cui termina l'incentivazione legata all'occupazione è quello lì il momento in cui l'operazione è stata completamente attuata. Quindi da quel momento in poi l'operazione non può essere utilizzata per divenire operazione retrospettiva sul programma operativo. Dicevo all'inizio che vi sono tre elementi che la notares va a chiarire in maniera definitiva. Dicevamo, il portato materialmente a termine, il completamente attuato e quello che è la domanda di finanziamento. Anche in questo caso la Commissione osserva che il regolamento comunitario non ha definito in maniera chiara quale sia la modalità di presentazione della domanda di finanziamento. La stessa criticità è stata rilevata anche con riferimento a quelli che sono i documenti, di sistema di gestione e controllo, di varie autorità di gestione. Quindi in effetti la domanda di finanziamento, cosa sia la domanda di finanziamento, in effetti può essere difficile da individuare. È difficile ed è importante stabilire con certezza la data e la domanda di finanziamento perché da tale data sono riconnessi gli effetti della possibilità di inserire un programma e di un'operazione dentro del programma. Sappiamo per ovvi motivi che nel caso delle operazioni a titolarità non esiste una vera e propria domanda di finanziamento che l'autorità di gestione presenta in quanto la stessa domanda di gestione è beneficia dal contributo. Quindi ci sono dei casi in cui oggettivamente la data di domanda di finanziamento non è facile da individuare perché non viene di fatto presentata dal beneficiario. Allora, da questo punto di vista è necessario invece individuare dei criteri che portino ad individuare in maniera univoca la data di domanda di finanziamento e questa indirizzazione della data deve essere unicamente determinata sia nel caso in cui è l'autorità di gestione a farla sia eventualmente nel caso in cui questa data deve essere individuata da soggetti terzi, tipo l'audit comunitario. Allora, un elemento che loro indicano nella notare è quello che la data della domanda di finanziamento deve essere uno step chiarito all'interno della pista di controllo per quanto riguarda le operazioni. Quindi è necessario che all'interno delle piste di controllo e questo quindi è un aspetto che potrà avere delle rifluenze sulle attività da svolgere dalle varie OMC devono essere sempre indicate in maniera certa qual è l'atto, il momento in cui in effetti si ha la presentazione della domanda di finanziamento. Quindi da questo punto di vista dobbiamo attivarci per aggiornare le piste di controllo su questo aspetto. Allora, dal punto di vista della domanda di finanziamento nascono una serie di conseguenze. Innanzitutto bisogna sempre individuare la data della domanda di finanziamento all'interno delle piste di controllo. Nel caso in cui ci troviamo di fronte a progetti che hanno un'origine da altre fonti di finanziamento e quindi che la domanda di finanziamento è stata presentata su altre programmazioni, nel momento in cui riportiamo il progetto all'interno del programma operativo dobbiamo trovare una data univoca per poter iniziare quella che è la domanda di finanziamento. Quindi nel caso dei progetti retrospettivi occorre necessariamente che sia notificato al beneficiario che il progetto in questione viene inserito all'interno della programmazione comunitaria e quindi bisogna notificare l'ammissione al finanziamento dei progetti retrospettivi al beneficiario e il beneficiario lo deve accettare. Quello diventa il momento della data di domanda di finanziamento ed è quello il momento in cui noi dobbiamo verificare se effettivamente il progetto è stato materialmente portato a termine o meno. L'altro aspetto che evidenzia la domanda, notare se anche a seguito dei controlli che sono stati fatti nelle varie attività di gestione è il fatto che le notifiche in merito all'ammissione al finanziamento dei progetti retrospettivi e l'eventuale risposta da parte del beneficiario devono essere fatte in maniera certa e datata. Quindi occorre che le comunicazioni avvengano, partano con PEC e protocollo e che le stesse comunicazioni di ritorno siano fatte con la stessa modalità, quindi con PEC e protocollo. Noi abbiamo purtroppo assistito in alcuni casi dove queste comunicazioni sono avvenute o con mail ordinaria o addirittura senza che sia stata effettivamente emesso alcun tipo di protocollo. Ecco, io ho anticipato quello che dicevo la Commissione, quindi non considererà ammissibile una domanda di finanziamento che non sia ufficiale senza una procedura interna di registrazione e approvazione. Quindi diciamo, questo è un monito per alcuni dipartimenti che invece in questo ciclo di informazione hanno utilizzato molto spesso le PEC e poi queste PEC non sono state mai protocollate all'interno del punto di vista amministrativo. Quindi da questo punto di vista questo è un ulteriore elemento che dobbiamo attenzionare perché in sede di un eventuale controllo sia dalla Commissione europea sia dalla SESADA loro potranno sulla base di questa notare se diciamo rilevare che appunto c'è stata una variazione della procedura normata indicata dalla Commissione europea. Passiamo invece a questo punto al secondo aspetto della giornata odierna. Quindi dicevamo sull'articolo 65 sintetizzando i due aspetti importanti gli aspetti più importanti sono che bisogna indirizzare innanzitutto la data della domanda di finanziamento laddove il progetto provenga da una programmazione diversa da quella comunitaria bisogna notificare obbligatoriamente al soggetto la volontà dell'amministrazione di imputarlo al programma operativo e queste notifiche e la sua accettazione diventano il momento in cui noi dobbiamo andare a valutare se il progetto è stato materialmente portato a termine o non lo è. Si parla di materialmente portato a termine nel momento in cui abbiamo operazioni fisiche quindi infrastrutture piuttosto che consegna di beni e servizi. Si parla invece di competente attuato nel momento in cui abbiamo operazioni immateriali e quindi nel caso delle operazioni immateriali il competente dell'operazione si ha quando tutte le attività previste dall'operazione sono state effettivamente esvolte. Nel caso invece delle operazioni materiali dobbiamo avere una serie di attenzioni sicuramente non possiamo considerare il certificato di collaudo come momenti in cui l'operazione è stata materialmente portata a termine perché fa riferimento a attività di natura amministrativa barra finanziaria. Non possiamo considerare i pagamenti come momenti in cui noi competiamo per l'operazione materialmente perché noi il pagamento lo possiamo altrettamente ritardare come amministrazione. Dovremmo considerare il certificato di fine lavori messo dal direttore lavori ma attenzione se il certificato di fine lavori se la data del certificato di fine lavori di fatto è paragonata con la data di imputazione dell'operazione dal programma se in questo arco di tempo non avvengono operazioni materiali cioè ulteriori avanzamenti materiali la data del certificato di fine lavori messa dal direttore lavori non può essere accettata ma dobbiamo retrocedere alla data effettiva di fine lavori che è la comunicazione che l'impresa dà di aver completato materialmente i lavori. Ricordiamoci pure che nel caso in cui il certificato di fine lavori assegna dei tempi ulteriori per il completamento del lavoro questi non possono essere utilizzati ai nostri fini perché si intendono che sono delle lavorazioni minimali secondarie non principali e che non intaccano la realizzazione fisica dell'operazione. Quindi di fatto la Commissione Europea ha consolidato il concetto di materialmente portato a termine sull'aspetto fisico del progetto. Ricordiamoci che però se un'operazione all'interno ha anche una componente di attrezzature che devono essere acquistate per il completamento dell'infrastruttura allora possiamo non solo considerare l'operazione materiale quindi la materializzazione dell'infrastruttura ma possiamo estendere l'operazione fino a quando non vengono consegnati i beni previsti per gli arredi della scuola piuttosto che per la museizzazione di un'opera quindi il concetto di importato materialmente a termine o componente attuato deve essere sempre calato nel caso concreto senza dar per scontato che l'inesistenza di un certificato di fine lavori determina la conseguenza è che l'operazione può essere materialmente inserita all'interno del tram operativo quindi avendo fatto questo ripeto continuiamo con quello che sono le piccole novità che sono inserite all'interno del manuale dei controlli di primo livello innanzitutto vi voglio segnalare che vi è un refuso all'interno del manuale dei controlli laddove viene detto che il manuale tiene conto delle indicazioni del decreto ministeriale 31 maggio 2021 numero 115 è chiaramente un errore perché il decreto ministeriale in questione è il sì del 31 maggio ma non è del 2021 ma è del 2017 è quello che istituisce il registro nazionale aiuti quindi c'è la citazione di un decreto ministeriale in maniera errada le novità che invece vengono apportate all'interno degli strumenti di controllo che sono inseriti che sono la checklist inserita all'interno del manuale dei controlli sono riconducibili alle checklist 1A 1B 7 8 che riguardano la necessità che venga formalizzata che i componenti della struttura del luco abbiano effettivamente rilasciato l'attestazione di insussistenza e di conflitti di interesse per ciascuna operazione o gruppo di operazioni finanziate facente parte dell'avviso della procedura quindi le checklist sono state integrate con alcuni punti di controllo che sono il punto 8.5 dell'allegato 1A il punto 4.5 dell'allegato 1B il punto 4.11 dell'allegato 7 il punto 1.19 dell'allegato 8 nel quale viene richiesto appunto che sia acquisita dagli atti una digrazione di insussistenza e di conflitti di interesse da parte del luco e dell'umc altre grosse altre novità del manuale delle checklist non sono fatte alcuni mi hanno chiesto cosa ne pensavo se per far fronte a questo upgrade delle checklist fosse stato possibile inserire un piccolo addendum senza riandare a compilare tutte le checklist secondo me assolutamente sì perché il manuale dei controlli è uscito in corso a novembre quindi molti dipartimenti avevano già operato con le vecchie checklist quindi nel momento in cui sono uscite queste nuove avrebbero dovuto ricompilare tutte le checklist a questo punto basta soltanto inserire un addendum alla checklist già prodotta eventualmente già firmata e completare questo punto di controllo inserendo la singola domanda e rimettendola all'interno del documentale di Caronte Gaeta scusami se ti interrompo c'è una domanda una riflessione del dottor Spinoso su questo punto credo sarebbe stato necessario prevederne la compilazione anche da parte dei componenti dell'UMC sono d'accordo con Michele dottore Spinoso sono d'accordo perché in effetti anche i componenti dell'UMC avrebbero dovuto compilare questo tipo di dichiarazioni questo potrebbe essere un appunto che possiamo prendere e poi sottoporre all'attenzione del del dottor Indorante secondo me sì perché si potrebbe innanzitutto correggere questo refuso dell'RNA che ha indotto in errore una serie di persone perché tutti abbiamo cercato il decadono del ministero 115 che in effetti esiste ha delle assonanze con i programmi operativi però poi non c'entrava niente con la nostra cosa quindi potrebbe essere l'occasione di fare un'errata corrige per il legato ministeriale e inserire ad esempio nelle varie domande che la struttura del lupo e quindi il personale che fa parte del lupo e dell'umc faccia questa dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse sì sono d'accordo ok perché infatti sottolinea il fulla check non c'è non c'è è giusto d'altra parte ecco chi sta a lavorare sulle check list ha la sensibilità di poter cogliere alcuni aspetti chi invece molte volte le scrive e le utilizza di meno non ha questa sensibilità nell'attenzione ad alcuni aspetti non c'è dubbio il dottor io ci dice ma anche i componenti dell'UCO che non si occupano materialmente dell'operazione sono obbligati a rilasciare la dichiarazione no secondo me no se non si occupano dell'operazione no perché molte volte l'UCO ha tante anime quindi non tutti si occupano di progetti comunitari quindi potrebbe non essere necessario acquisire le dichiarazioni per tutta la struttura dell'UCO ok poi la struttura del manuale di controllo è stato integrato anche per ricomprendere alcuni aspetti legati al bonus sicilia ma è un'operazione di competenze del dipartimento attività produttive molto settoriale quindi non eventualmente poi la approfondiamo direttamente col dipartimento competente non aveva senso portarla all'attenzione di tutti perché è una procedura unica utilizzata una sola volta per un solo avviso a questo punto invece passiamo ad ad esaminare una serie di punti di attenzione di criticità che mi sono stati segnalati da colleghi delle varie UMC la cosa il concetto dei progetti dormienti all'interno del programma si riscontrano molti progetti che a fronte di un decreto di finanziamento sono di fatto senza alcun tipo di avanzamento dal punto di vista della spesa quindi per questi progetti ci ritroviamo ad avere un impegno di spesa all'interno del programma ma di fatto non abbiamo a distanza di alcuni mesi se non anni alcun tipo di risconto se il beneficiario abbia o meno intenzione di portare avanti l'operazione allora a questo punto bisogna comprendere segnalare al dipartimento comunque bisogna prendere una decisione su come comportarsi per questi progetti in alcuni casi i progetti dormienti nascondono situazioni in cui il soggetto che è partecipato al bando ha ottenuto magari il contributo ma non ha la capacità tecnica o economica di poterlo realizzare a questo punto prova a vendere l'operazione a soggetti terzi che la vogliono acquistare quindi si crea un vero e proprio mercato di questi contributi allora al fine di evitare che queste operazioni possano determinare diciamo illeciti di varia natura secondo me è opportuno che questi progetti dormienti che sono imputati al programma ma che non hanno avanzamento di spesa bisogna come dire spingerli verso l'uscita spingerli verso l'uscita o comunque richiedere formalmente ai beneficiari quali sono le loro reali intenzioni se assegnando dei tempi precisi di realizzazione se in assenza del rispetto di questi tempi bisogna sicuramente avviare le procedure di avviso di di revoca metterci in sicurezza su eventuali questioni che possono comunque su eventuali attività al limite dell'ecito che si possono innescare non so se nei vostri dipartimenti questa è un'opzione che vi è capitato di rivedere in alcuni dipartimenti questa situazione è stata riscontrata numerosi casi quindi il consiglio o comunque l'azione secondo me che mette in protezione il comportamento di tutti è quello di fingere il dipartimento nella richiesta di chiarimenti in merito ai ritardi che si stanno popolando eventualmente provare a no provare utilizzando il dettato degli avvisi a attuare le procedure di avvio di reluco un altro fattispecie che ha destato un qualche tipo di difficoltà è nel momento in cui noi ci ritroviamo all'interno di un'operazione un regime di aiuto che prevede l'acquisto di immobile con cavara con firmatorio per poter essere inserito all'interno del progetto di investimento il beneficiario doveva dimostrare la disponibilità dell'unità locale che in effetti può avvenire anche successivamente alla missione a finanziamento in alcuni casi però la si ritrova già all'omento della presentazione ora nel momento in cui abbiamo un acquisto di un immobile un caparra con firmatoria è probabile che la caparra con firmatoria sia avvenuta prima della pubblicazione dell'avviso l'ottimum sarebbe che dopo l'avviso il soggetto ha individuato il bene e ha stabilito un patto con il venditore e presenta la domanda di finanziamento e successivamente alla domanda di finanziamento comincia a dare le prime caparle è chiaro che però questa opzione è di fatto impossibile da verificarsi perché difficilmente noi troveremo un venditore che è disposto a impegnarsi alla vendita di un immobile da inserire in un progetto di investimento ancora prima di aver ricevuto una caparra quindi l'opzione più semplice che riscontriamo è quella che abbiamo un immobile per il quale il venditore ha già ottenuto una caparra con firmatura successivamente avendo il venditore di immobile il beneficiario ha partecipato all'avviso e oggi l'immobile diventa oggetto di finanziamento a questo punto si crea un problema di ammissibilità della spesa nel senso che come occorre considerare le caparre confirmatorie date prima della presentazione della domanda di finanziamento che secondo le regole ordinarie non sarebbero ammissibili c'è qualcuno che ha affrontato questo tipo di problematica in generale bisogna fare delle riflessioni in questo caso perché la regola ordinaria deve essere giustamente utilizzata e messa in correlazione con quello che è la norma del codice civile nel senso che la caparra confirmatoria non determina l'acquisto del bene cioè non c'è un passaggio di proprietà del bene con la caparra confirmatoria ma è soltanto l'impegno che le persone sottoscrivono per fare delle azioni ad una certa data se i soggetti mantengono fede alle promesse si realizzeranno gli effetti traslativi poi c'è stato il pagamento e il passaggio di proprietà dell'inmobile da un soggetto ad un altro se invece i due soggetti non mantengono gli impegni bisogna restituire le caparra confirmatorie se a cambiare l'idea è l'acquirente il venditore tratterrà la caparra confirmatoria se invece a cambiare l'idea è il venditore l'acquirente ha diritto a ottenere il doppio di quanto aveva dato quindi in effetti la caparra confirmatoria non è pagamento di prezzo dell'immobile quindi questo aspetto fa sì che l'acquisto dell'immobile secondo le regole di ammissibilità della spesa non è stato acquisito prima della domanda di pagamento ma se ne è acquisita è stato individuato e due persone si sono messi d'accordo per poter poi fare il passaggio di proprietà quindi la caparra confirmatoria non determina l'inammissibilità dell'acquisto dell'immobile però se prima della domanda di finanziamento ricordiamo il discrimine all'interno del quale un investimento è ammissibile un oggetto è ammissibile o meno al contributo se tra cliente e venditore vi è stato un trasferimento di denaro prima della domanda di finanziamento questo trasferimento di denaro in teoria in sede di atto notarile dovrebbe avvenire questo che in sede di atto notarile il denaro dato dall'acquirente al venditore dovrebbe essere restituito all'acquirente e ridato al venditore davanti al notaio di fatto cosa avviene poi che è il notaio in serie di atto trasforma quelle che sono state le somme date a titolo di caparra in conto prezzo quindi diciamo in pagamento di acquietanza quindi noi ci ritroviamo a questo punto che una parte che l'investimento della questione immobile è stato integralmente effettuato per l'intero importo pagato per l'intero importo però una parte di questo trasferimento del denaro è avvenuto prima della presentazione della domanda di finanziamento quindi essendo avvenuto prima con il social importo in teoria non è ammissibile perché noi non possiamo valutarne è fuori dal periodo di ammissibilità della spesa quindi noi abbiamo che a fronte di un acquisto di un immobile supponiamo che valga 100 in effetti se l'acquirente è dato una coperta al confermatore di 20 i 20 e questi 20 sono stati dati prima dell'atto notarile questi 20 valgono al fine di considerare quetanzato il bene quindi il bene è stato integralmente pagato tuttavia non sono ammissibili o non dovrebbero essere ammissibili alla rendicontazione dei fondi comunitari su questo aspetto vari dipartimenti hanno avuto posizioni diverse nel senso che secondo me questa è la posizione più corretta che fa tesoro di passate esperienze altri dipartimenti invece si sono orientati o nel considerare l'intero investimento non ammissibile perché l'acquisto è venuto prima e questa è una posizione che secondo me è difficilmente diciamo sostenibile oppure hanno considerato integralmente l'intero importo ammissibile ai fondi comunitari anche questo secondo me presta il fianco a qualche a qualche a qualche critica non so se ci sono nel nel gruppo di oggi dei partecipanti se hanno dovuto affrontare casi di questo tipo perché la condivisione di una di una modus operandi univoco all'interno delle due di gestione sarebbe importante in modo tale che casi simili vengano trattati tutti nello stesso modo o perlomeno che lo stesso dipartimento si comporti in maniera univoca di fronte alla stessa fattispecie perché certamente i comportamenti diciamo disomogenei all'interno nello stesso dipartimento potrebbero portare a contenzioni difficili da sanare a questo punto no non ci sono domande no ok farei un altro punto e poi se tu sei d'accordo interrompiamo e ci facciamo un piccolo break per un caffè assolutamente sì ok dicevo l'altro aspetto che andiamo a esaminare ora è invece le variazioni sostanziali e non sostanziali nei regimi di aiuto il tema delle variazioni dei progetti finanziati nei regimi di aiuto di fatto non era stata adegutamente trattata all'interno degli avvisi di tutti gli avvisi cioè questo aspetto qua che in passato invece è stato storicamente un elemento su cui bisogna lavorare per chiudere i progetti è stato sottovalutato in serie di avvisi quindi diciamo questa casistica non era normata quindi successivamente credo nel 2019 attraverso una variazione del manuale d'attuazione la dotata di gestione erga omnes ha diciamo anche facendo una forzatura e ha dato un'interpretazione diciamo su quelle che possono essere le varianti che possono essere apportate nei progetti di regimi di aiuto sostanzialmente diciamo utilizzando diciamo delle casistiche mutuate da altri avvisi nazionali è stato messo un discriminante su quello in termini di valore percentuale cioè se una variazione incide per oltre il 20% su una macro voce di spesa allora questa è una variante sostanziale se invece la variante incide per una percentuale inferiore al 20% questa si può considerare non sostanziale questa vale come regola generale chiaramente bisogna nei momenti in cui vengono presentate anche le varianti non sostanziali comprendere che tipo di varianti non sostanziali sono state fatte perché se uno anche all'interno del 20% stravolge l'unicità del progetto trasformandolo da un progetto fortemente innovativo in un progetto ordinario e quel progetto e quella questa originalità viene meno e che è stata anche alla base magari di un punteggio aggiuntivo che ha permesso di essere finanziato allora bisogna fare una valutazione su quello che è la variante non sostanziale ma in generale ci si deve ci si può fermare all'esame della variante dalla variante da un punto di vista numerico quindi se la variazione incide per il 20% per più del 20% si tratta di una variante sostanziale e per le varianze sostanziali la variante prevede che il beneficiario ne faccia richiesta con una tempistica ora non ricordo che era 180 giorni prima della chiusura del progetto ma è tale che il centro di responsabilità la possa valutare eventualmente invia questa richiesta alla commissione di valutazione che la rivaluta e a seguito di questa rivalutazione eventualmente bisogna riemettere un nuovo decreto di ammissione al finanziamento quindi si deve rifare tutta la trafida originaria che ha portato all'emissione al decreto di finanziamento se invece si tratta di una variante non sostanziale di fatto secondo le indicazioni che sono state inserite nel manuale adottazione il beneficiario può soltanto comunicare anche dice a chiusura dell'operazione che si è fatto una variante non sostanziale dettagliandola nel merito a questo punto mi veniva chiesto ma secondo Luco deve o no approvare la variante non sostanziale perché noi ci troviamo come UMC a controllare dei progetti che sono stati pagati dal Luco ma di cui sono stati pagati dal Luco quindi oggi arriviamo in certificazione dovremmo andare in certificazione ma Luco di fatto su queste varianti non sostanziali non si è mai espressa allora perché dobbiamo fare sempre dobbiamo essere rigidi ma non troppo flessibili ma non troppo ci siamo sempre in questo equilibrio precario ci ritroviamo oggi a dover gestire una situazione diciamo ormai consolidata allora se Luco faccio un ragionamento proprio basilare se Luco ha ricevuto la comunicazione da parte del beneficiario nella quale comunicava che ha effettuato una variante non sostanziale quindi all'interno del 20% non ha detto nulla ma comunque ha proceduto dal pagamento di fatto c'è un'approvazione tacita e quindi diciamo nella CECRIS eventualmente si segnala che Luco non ha approvato ma ha proceduto dal pagamento quindi di fatto abbiamo un'approvazione tacita certo sarebbe meglio che Luco nel decreto di finanziamento di liquidazione dicesse vista la richiesta o la comunicazione di versione non sostanziale ritenuta che la stessa non incide in maniera sostanziale sulla funzionalità o sull'operatività del progetto si ritiene accettata quindi il passaggio sarebbe meglio che ci fosse ma se ormai non ce l'abbiamo e direi proviamo a darlo come comportamento concludente fatto dall'amministrazione la questione del cambio sede dell'investimento in alcuni dipartimenti per ora stiamo l'OMC sta riscontrando specialmente nei regimi di aiuto una programma tipica del regimo di aiuto che molti beneficiari chiedono il cambio sede dell'investimento e quindi su questo ci sono delle posizioni contrastanti nel senso che in alcuni casi mi hai detto no il cambio sede non si può fare perché non è previsto io ho espresso una posizione leggermente diversa e diciamo che bisogna guardare il cambio sede caso per caso innanzitutto bisogna capire se cosa loro scrivono nel cambio sede quindi la motivazione che loro indicano l'altro aspetto da evidenziare è se la sede dell'investimento era o meno determinava o meno un indicatore ai fini del punteggio per la missione al finanziamento quindi se la sede aveva determinato per esempio con la cantierabilità un punteggio aggiuntivo che ha permesso all'iniziativa di andare di essere finanziata il cambio sede deve individuare un'altra sede equivalente che deve avere lo stesso punteggio bisogna capire nel cambio sede se ad esempio il beneficiario aveva dichiarato la cantierabilità dell'iniziativa ma in effetti questa cantierabilità non c'era quindi nel momento in cui c'è un cambio sede è sempre opportuno farsi fare una perizia giurata da parte del tecnico in cui dice che sebbene la cantierabilità dell'iniziativa esisteva nella prima sede oggi ci si trasferisce la seconda sede per un'altra motivazione cioè quindi farsi confermare le dichiarazioni acquisite in sede di prima di prima istanza chiaramente nel nuovo investimento nel nuovo nella nuova sede bisogna avere tutti i requisiti necessari per poterle operare quindi se ci sono a seconda della tipologia di iniziativa bisogna avere tutte le autorizzazioni a ASD piuttosto che del comune per poter operare quindi il cambio sede di per sé dell'investimento non è si può fare chiaramente è un indicatore di attenzione che bisogna porre perché nel cambio sede ci possono essere tutta una serie di questioni che possono essere celate la prima è che in effetti nella sede originaria lui ha bleffato e non aveva la disponibilità per esempio oppure aveva la disponibilità ma non era cantierabile ma la cantierabilità lui l'ha dichiarata perché gli è servita come punteggio oppure ancora diciamo c'è effettivamente una motivazione sottostante importante per esempio ha deciso di fare l'investimento in un posto di cui era proprietario aveva la cantierabilità e tutto ma ora ha avuto una nuova opportunità di mercato in una sede più comoda e quindi trasferisce l'investimento ad altre sede quindi bisogna anche valutare dare l'opportunità all'impresa di crescere e migliorare il cambio sede può anche intervenire in un progetto di investimento ad esempio che non aveva opere murarie quindi in quel caso il cambio sede è una cosa ancora più semplice perché non avendo opere murarie quindi non essendoci investimenti sulla struttura che devono essere spostati da un posto ad un altro di per sé non interferiva sulla cantierabilità quindi in questi casi laddove c'è un cambio sede di un'iniziativa imprenditoriale che non aveva opere murarie può essere più semplice la valutazione in merito all'ammissibilità altro elemento che volevo sottoporre all'attenzione è la copertura degli anticipi per le erogazioni avvenute nel 2018 riguarda sia le opere pubbliche che il regime di aiuto ricordiamoci che i trasferimenti di risorse dal centro di responsabilità alla stazione appaltante non sono quelli gli anticipi di cui parliamo quelli sono trasferimenti di risorse gli anticipi sono quelli che sono le somme erogate dalla stazione appaltante all'impresa ancora prima diciamo che i lavori siano iniziati oppure le somme che ha erogato la regione all'impresa nel regime di aiuto per poter avviare l'investimento ricordiamoci che queste erogazioni devono essere coperte da spese effettivamente sostenute entro i tre anni dall'anticipo quindi dal 2018 in tutti quei casi in cui abbiamo certificato anticipi erogati nel 2018 entro il 2021 devono essere coperti da spese effettivamente sostenute tenete conto che in questi giorni credo il 2 dicembre l'architetto indorante del dipartimento programmazione ha inviato una nota a tutti i dipartimenti e a tutte le OMC nella quale si richiede tutta una serie di informazioni tra cui una delle informazioni che bisognerà attenzionare è proprio questa cioè vedere se ci sono anticipi erogati a beneficiari non coperti da spese effettivamente sostenute anzi colgo l'occasione per sollecitare il riscontro a questa nota che eventualmente poi faccio vedere a fine del webinar che è una nota inviata dall'architetto indorante a tutte le OMC nella quale si desidera una risposta entro la settimana prossima altro elemento che bisogna che volevo sottolineare era come si fa il calcolo dell'Eula era anche una domanda che avevo inserito nel formo poi non ha avuto non ha sortito effetto perché nell'ambito dei controlli mi sono accorto che quando si fa il calcolo dell'Eula molti si accontentano della comunicazione che l'impresa fa all'Inps attraverso l'Uni-Emens allora la comunicazione fatta all'impresa all'Inps non è sufficiente per fare il calcolo dell'Eula perché è una comunicazione che indica una persona che viene assunta o comunque viene messa sotto contratto da un'impresa ma non ci dà indicazioni specifiche in merito a quello che è il numero l'equivalente lavoratore annuo di questa persona assunta quindi è necessario che ci sia il libro unico del lavoro e che ci sia un consulente che faccia una dichiarazione professionale nella quale viene detto quali erano le Ula prima della presentazione della domanda o al momento del calcolo e qual è l'incremento che è avvenuto nelle Ula ad un'altra data e questo deve essere fatto attraverso un calcolo che deve tenere conto del numero dei dipendenti dell'impegno orario dei singoli dipendenti da quando questi sono stati assunti perché se io assumo una persona a fine anno non può essere considerata una Ula ma deve essere considerata in ragione del numero dei giorni anni quindi se la assumo l'ultimo giorno dell'anno è come se fosse una Ula ma divisa per 365 quindi 1 su 365 quindi non deve ingannare nel calcolo delle Ula quindi occorre che il calcolo delle Ula sia adeguatamente motivato e strutturato da un consulente del lavoro quindi ci vuole sicuramente il libro unico e ci vuole anche il calcolo dell'equivalente lavoratore annuo fatto da un consulente non basta come diritto la semplice comunicazione di assunzione per dire che abbiamo raggiunto un'Aula mi è capitato di vedere dei progetti che il beneficiario dice dovevo assumere un'Aula nell'anno regime nell'anno regime lo assume a giugno e quindi il beneficiario per poter raggiungere un'Aula nell'anno regime se assume le persone full time a giugno ne deve assumere due se le assume a luglio quindi a fine a fine luglio no quindi a fine settembre ne deve assumere quattro per raggiungere un'Aula perché mancano tre mesi a fine dell'anno quindi il calcolo dell'Aula deve essere ci vogliono documenti di supporto che può presentare il beneficiario ma ci vuole una dichiarazione professionale del consulente del lavoro che sotto la sua responsabilità dichiara qual è effettivamente il numero dell'Aula dell'impresa ad una certa data l'altro elemento che volevo segnalare e che mi è stato detto è che esiste non so se voi l'avete già rilevato una mancata sincronizzazione dello scarico dei dati tra il sistema SIC e Caronta e quindi necessita già poi nel momento in cui uno fa l'importazione dei dati dal SIC su Caronta i dati che provengono dal SIC devono essere ricontrollati per eliminare errori specialmente nelle date dicevano che in alcuni casi la data di quetanza non è effettivamente quella del mandato reale oppure la data di invio non è effettivamente la data di emissione del mandato quindi vorrei sottolineare che nel momento in cui fate lo scarico dei dati da SIC bisogna ricontrollare quelle che sono le date che il sistema importa su Caronta non so se questa è una cosa che avevate già riscontrato nelle vostre attività volevo fare soltanto un passaggio e poi andiamo a chiudere a questo punto sul fatto delle operazioni non funzionanti allora dobbiamo già ora guardare all'interno delle variazioni del programma per cominciare a capire se effettivamente le operazioni che in questo momento sono ancora in attuazione entro la data di chiusura del programma realmente potranno essere scuse e essere operative perché questo è importante perché dobbiamo già da ora cominciare a capire effettivamente quante di quelle operazioni che noi in questo momento immaginiamo possono fare spese e quindi possono contribuire a raggiungere i target del programma in effetti poi alla fine della storia non potranno essere inserite per far questo ricordiamoci che ciascun cdr quindi la trattata di gestione dovrà entro la relazione finale che si presenta il 15 febbraio 2025 quindi fra due anni in avanti dovrà escludere tutte quelle operazioni che non sono fisicamente completate attuate la prima opzione c'è un'opera pubblica un'infrastruttura a quella data noi immaginiamo che non potrà essere funzionante cosa dobbiamo fare? escludere la riconda significa che noi non possiamo lasciarla a rendicontazione sul programma operativo ma significa che noi la possiamo riproteggere su quelli che sono i programmi complementari che attualmente esistono quindi spostare l'operazione dal programma operativo verso un programma complementare e viceversa prendere un'operazione che si trova sul programma complementare e inserirla sul programma operativo quindi questa operazione è un'operazione che chiaramente da valutare da approfondire devono essere fatte per tempo e con il tempo perché probabilmente partendoci ora esaminando puntualmente ciascuna operazione magari quelle dimensioni più grosse possiamo capire se in effetti facendo pressing sulla stazione appaltante riusciamo o meno a chiuderle entro il 15 febbraio 2025 tenete conto che il 15 febbraio è la data nella quale deve essere fatto materialmente il click per l'invio sul sistema informatico comunitario dell'invio di tutti i programmi chiaramente questa data è il momento del click per poter fare questo tipo di valutazioni bisogna per lo meno farlo per lo meno sei mesi prima quindi noi già a settembre del 2024 sicuramente bisognerà avere già un elenco di quelli che sono i progetti che hanno speranza di poter essere conclusi o non ce la possono fare perché se non ce la possono fare noi dobbiamo provvedere non solo a toglierli dal programma ma eventualmente a fare delle eventuali rettifiche quindi per questo lo dico certe operazioni non si fanno nell'ultimo periodo ma devono essere fatte per tempo quindi laddove la sensibilità di chi fa i controlli individua progetti che sono difficilmente concutibili per quella data è giusto che venga rilevato e venga segnalato a tutta la filiera dell'attuazione questa è la prima opzione l'amministrazione può decidere di non di escluderli dai come l'altra opzione che avrà l'autorità di gestione CDR è quella invece di mantenerli all'interno del programma però con un aggravio cioè tu puoi mantenere questi progetti che sono non conclusi e non funzionanti a due condizioni primo che ciascuna operazione non deve superare i 2 milioni di euro quindi noi già nel fare questo tipo di valutazione dobbiamo capire se siamo in questo all'interno di questo target o no la seconda condizione è che le operazioni complessimamente non devono essere superiori al 10% del programma seconda condizione la terza condizione è che queste operazioni che non sono concluse a quella data devono essere concluse a spese dello Stato entro il successivo 15 febbraio 2026 quindi si dice che noi dobbiamo comunque trovare nuove fonti finanziarie per portarli a termine quindi questo significa che piuttosto che arrivare corti a fine periodo potrebbe essere opportuno già da ora individuare dei programmi complementari o sui la sulla sulla sulle FSC progetti che sono coerenti con le nostre azioni e che possono essere realmente imputate al programma chiaramente la cosa che volevo dire è che la conseguenza è che se a quella data le operazioni non sono operative funzionanti a questo punto dovranno essere tolte dalla certificazione e quindi il programma a distanza di tre anni dal periodo dell'EGB subirà una rettifica finanziaria senza più la possibilità di essere compensati da qualche maniera a meno che noi riusciamo e questa è una cosa molto difficile ad avere a rendicontare molti più progetti di quelli che sono le dotazioni del programma quindi andare in overbooking cosa difficilissima sapendo che ad oggi noi a quella data ci manca circa un miliardo di operazioni da rendicontare quindi l'utilizzo dell'overbooking in questo momento è una cosa abbastanza improbabile che avvenga un elemento che volevo segnalare che serve per subito fare un altro discrimine delle operazioni riguarda il fatto che dopo che le operazioni sono concluse devono essere funzionanti e devono rispettare il criterio della stabilità dell'operazione quindi per un arco di periodo di tre o cinque anni queste operazioni devono mantenere la finalità per la quale sono state realizzate se però dopo che l'operazione è stata completamente realizzata e ha superato il periodo di stabilità si distrugge per una qualsiasi altra motivazione l'operazione e quindi arriviamo che nel 2025 questa la strada costruita che già aveva superato il periodo della stabilità dell'operazione si rovina perché avviene una frana noi quell'operazione la possiamo mantenere in certificazione perché avevamo adempiuto i nostri obli quindi avevamo realizzato era completamente funzionante avevamo rispettato il limite di stabilità successivamente è avvenuta una frana se la porta la rende non funzionante in questo caso avendo noi rispettato i vincoli comunitari possiamo mantenere in circolazione anche se la strada materialmente non esiste più quindi faccio l'esempio limite della strada ma potrebbe essere per qualsiasi altro tipo di infrastruttura quindi nei momenti in cui valutiamo le operazioni non funzionanti ricordiamoci di attenzionare anche se abbiamo o meno superato il limite della stabilità delle operazioni di attenzionare 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 di attenzionare